Si chiama Famiglia e Commercio, questa è l'iniziativa della Giunta Comunale di Chieti. Assessore, parliamo di buoni spesa non alimentari destinati alle famiglie bisognose del capoluogo teatino. Si tratta di buoni acquisto per un importo complessivo di 100.000 euro che derivano da fondi statali del decreto legge del 29 maggio del scorso 2020. Noi però abbiamo voluto individuare una soluzione che potesse rappresentare un ristoro anche per le attività commerciali. L'abbiamo condiviso con la categoria. I buoni acquisto hanno un importo di 50 euro l'uno e soprattutto servono per la vocazione con la quale nascono a dare una mano al commercio e alle famiglie in difficoltà. Voi come amministrazione comunale continuate a dare una mano al commercio cittadino in un periodo che resta molto complicato? Assolutamente, dicevamo relativamente a queste iniziative che fanno il paio con varie iniziative che abbiamo messo in campo per gestire questo difficile momento per il tessuto economico della nostra città e rispettivamente a questi buoni acquisto un'altra evidenza che vogliamo portare all'attenzione della cittadinanza è che il bando sarà sul sito del comune dal prossimo lunedì. Da prima andremo a formulare l'elenco delle attività commerciali che sono disponibili a ricevere i buoni e poi successivamente ci sarà un secondo avviso che invece riguarda le famiglie e che avrà una valutazione rispetto ad una gradatoria che sarà inversamente proporzionale all'aumentare del reddito e fino a redditi complessivi di 30.000 euro. Grazie. Grazie.